E' un'altra cosa. Una bella sensazione. Finalmente fare paura a qualcuno. Mi si spalte il no. Non faccia sciocchezze. Invece sì. Voglio essere sciocca. Voglio io per una volta decidere di me. Levate le mutande. Cosa? Hai capito benissimo. Levate le mutande. Giù. E ora chi è? Ma non lo so. E dove ti metto io? Da nessuna parte. Io uccido. Mi si spalte il no. Arrivo! Presto. Sotto al divano. E' troppo basso. Non ci sto. Arrivo! In bagno. Avanti. L'ho visto pare in un film. Funzionerà. Mi si spalte il la prego. E allora toglite le mutande. Sta commettendo un errore. Una sola parola e sei un uomo morto. E poi te le levo io, le mutande. Arrivo! Favola. Liberi di essere ciò che si è. Al cinema. Solo il 25, 26, 27 giugno. C'era una volta una bambina. E dico c'era. Perché ora non c'è più. Info e biglietti su nexodigital.it